Da quanto tempo fa l'arbitro? Questa è la mia quinta stagione. E che cosa hai provato la prima volta che hai sceso in campo con i giocatori? Prima di tutto pensavo di essere molto incapace, la prima volta si ha paura di sbagliare. Dopo, con le successive partite di campionato e amichevole, ho visto che mi rinfrancavo, ho visto che ottenevo dei buoni risultati, quindi ho pensato di essere un po' capace.